buongiorno a tutti oppure buonasera come sempre dipende come tutto nella vita un po dipende io sono antonio vi do il benvenuto a questo corso di lingua italiana livello intermedio avanzato buongiorno a tutti i miei cari studenti da antonio benvenuti a questa lezione di italiano livello avanzato in questa lezione finiremo l'unità 26 l'unità che parlava di medicina alternativa di cure mediche e specialmente dell'efficienza della farmacia e della medicina in questo preciso momento infatti proprio adesso ci troviamo davanti alla parte e di questa unità la parte dedicata al parlato e allo scritto abbiamo delle situazioni che vanno recitate quindi con un role play abbiamo delle situazioni che vanno discusse oralmente e abbiamo un ultimo esercizio da fare per iscritto quindi senza ulteriori indugi iniziamo con la prima situazione il primo esercizio esercizio 1 quello da fare con role play ci dice situazione un vostro zio si deve operare ma la lista d'attesa è molto lunga il chirurgo però vi fa capire che l'operazione potrebbe avvenire in tempi brevi in una clinica privata non convenzionata voi non avete la possibilità di affrontare una simile spesa immaginate il dialogo ok quindi dobbiamo partire da questa situazione immaginaria in cui siamo a colloquio con un chirurgo che deve operare un nostro parente per esempio un nostro zio e ci fa capire questo chirurgo che c'è tanto da aspettare perché c'è una lista d'attesa molto lunga potrebbe passare anche del tempo cioè potrebbero passare diversi giorni diverse settimane addirittura diversi mesi prima che questo nostro zio venga finalmente operato però c'è una soluzione alternativa qual è questa soluzione alternativa la soluzione è di andare in una clinica privata non convenzionata che cosa significa significa che il costo dell'operazione dobbiamo sobbarcarcelo tutto noi dobbiamo pagare di tasca nostra e noi non abbiamo la possibilità di pagare di tasca nostra perché noi sappiamo che le cliniche di private di solito si pagano personalmente perché non hanno delle convenzioni particolari con lo stato né con degli organi particolari che forniscono dei fondi quindi vanno pagate completamente da chi ne usufruisce quindi questa è la situazione base da quale dobbiamo partire insomma dobbiamo fare le parti di un chirurgo e le parti di un una persona che ha questo zio che deve operarsi e quindi io ho immaginato questo tipo di colloquio ditemi un po se va bene se non va bene potete fornirmi un'opzione alternativa potete creare voi un vostro dialogo immaginario fra il chirurgo e questa persona che ha colloquio perché ha lo zio che deve operarsi dunque io ho pensato questa cosa qui vai partiamo buongiorno dottore buongiorno allora mi dica un po come sta mio zio come la situazione del suo intestino e guardi questo intestino non sta benissimo sa questo intestino andrebbe operato d'urgenza anche perché voglio dire dopo tanti anni di alimentazione non regolare e dopo tutti questi anni di birre alcol vino whisky e quant'altro insomma è anche normale ritrovarsi con un intestino in queste condizioni insomma anzi sarebbe strano il contrario io suggerisco ovviamente una operazione chirurgica e questa operazione chirurgica va fatta il prima possibile secondo me ah bene allora facciamo così allora cioè quindi insomma prendiamo appuntamento e ricoveriamo un nuovo mio zio e facciamo l'operazione subito e no temo che non sia così facile perché sa c'è una lista d'attesa un po lunga come saprà o forse non saprà suo zio non è l'unico a essere in questa condizione sa molte persone soffrono dello stesso problema con l'intestino dopo anni di alimentazione irregolare e di bevute irregolari c'è una lista d'attesa molto lunga sa che potrebbero passare addirittura settimane se non mesi prima che suo zio possa finalmente passare sotto i ferri e possa finalmente essere operato ah ho capito e allora come facciamo come si fa per far sì che mio zio venga operato il prima possibile non c'è un modo una soluzione per accelerare questa operazione beh adesso che mi fa pensare sì c'è un modo soltanto che soltanto che cosa soltanto che è abbastanza costoso ma perché scusi ma non è coperto dall'assicurazione sanitaria e no sto pensando proprio a qualcosa del tipo ricoverare suo zio in una clinica privata sa nelle cliniche private basta pagare e in questo modo verrà operato il prima possibile e quanto verrebbe a costare questo ricovero nella clinica privata? beh diciamo che siamo sui 250 euro a notte di partenza poi ovviamente ci sono trattamenti speciali come il costo dell'operazione eccetera eccetera penso che in totale siamo attorno ai 1000-1500 euro insomma come saprà la salute non ha prezzo è vero? eh sì dottore immagino che la salute sia molto importante insomma il prezzo non dovrebbe essere un problema soltanto che io non penso di avere per adesso tutti questi soldi come facciamo? beh io non penso di poterle venire incontro ulteriormente le cose sono due o fa ricoverare suo zio in una clinica privata e quindi si toglie il pensiero in 4 e 4 8 perché nel giro di una settimana suo zio sarà bello e pronto per tornare al lavoro oppure lo mettiamo in lista d'attesa e chissà fra quanto tempo potrà finalmente essere sottoposto a questa operazione e chissà magari con queste settimane che passano la sua condizione si aggraverà io non me la sento di consigliare questo lei cosa dice? eh dottore sa ha ragione però io per adesso non ho tutti questi soldi come facciamo? penso che la cosa ideale sia se riusciamo a fare una specie di colletta a raccogliere i soldi fra tutti i parenti e poi le faremo sapere insomma lei cosa pensa? beh penso che sia un'ottima soluzione allora rimaniamo che ci aggiorniamo in questo modo? sì va bene e mi fermo qui con questo dialogo qui ovviamente ho messo l'accento sul vantaggio della clinica privata diciamo mettendo da parte gli eventuali svantaggi della clinica privata perché voglio dire se una persona davvero non se lo può permettere è un gran bel problema perché voglio dire passano giorni settimane mesi senza che questa persona venga sottoposta all'operazione è un bel problema qui vabbè ovviamente non sto dicendo nulla di nuovo ma penso che lo sappiate già va bene questo per quanto riguarda il primo esercizio per quanto riguarda il secondo esercizio ci chiede invece ed una discussione orale come giudicate il sistema sanitario del vostro paese? servizi, ospedali, medici eccetera? parlatene oh mamma mia che domanda deprimente perché di solito si parla tanto in Italia di mala sanità cioè di situazione non proprio ideale per quanto riguarda il sistema sanitario italiano si sa che ci sono queste liste d'attesa lunghissime per chi deve fare delle operazioni chirurgiche si sa che per esempio alcuni dottori prendono dei soldi di nascosto da delle famiglie abbastanza abbienti per far passare delle persone avanti in lista d'attesa di fare modo quindi di accelerare l'operazione si sanno tante cose però non si agisce di solito quindi questa è una domanda abbastanza deprimente perché adesso in Italia la situazione sanitaria non mi sembra essere in un momento particolarmente positivo al contrario quello che ho visto in Cina da straniero sempre che sono arrivato da straniero con l'assicurazione sanitaria pagata dall'università a me è sembrato sempre di essere stato trattato bene poi ovviamente ho sentito anche tante brutte storie sulla sanità in Cina però qui non voglio entrare nel merito perché non le ho vissute in prima persona come anche non ho vissuto in prima persona delle situazioni particolarmente spiacevoli riguardanti la sanità in Italia ho soltanto sentito dire da un sacco di persone che adesso siamo in una situazione di mala sanità però di solito sono sempre stato trattato con estrema professionalità da tutti i medici sia italiani sia cinesi insomma quindi insomma non mi sento di voler approfondire di più questo soggetto perché non mi sembra di aver avuto esperienze particolarmente negative forse l'unica cosa è stata quando per esempio avevo 11 anni è successo che a 11 anni a un certo punto mi è venuta una strana malattia che era una malattia della pancia che si chiama gastroenterite e tutti pensavano dottori inclusi che fosse una appendicite e quindi mi hanno ricoverato mi hanno fatto stare due o tre giorni in ospedale e a un certo punto mi hanno anche fatto una flebo che è andata fuori dalla vena che quindi mi ha gonfiato il braccio in una maniera esagerata assurda che infatti mia madre diceva ma è normale che il braccio sia così gonfio e l'infermiera rispondeva sì sì signora è normale ma non vede il ragazzo che è grosso e vabbè poi se ne sono accorti l'ago è andato fuori dalla vena finalmente ci siamo accorti che è stato un problema nostro e patapi patapi patapa quindi questa è stata un'esperienza negativa però a parte questo che è successo comunque parliamo di 15 anni fa non è successo null'altro di particolarmente eclatante anzi io sono sempre stato trattato con estrema professionalità come dicevo dai medici tanto che a ogni occasione che si presenta se io sono in Italia per esempio si presenta l'occasione di andare a donare il sangue io lo faccio sempre perché immagino che sia un bel aiuto alle persone che hanno bisogno di fare delle trasfusioni di sangue o che hanno bisogno del sangue dello stesso mio gruppo sanguigno se avete possibilità di andare a donare il sangue fatelo perché secondo me è sempre una cosa bella è un atto di altruismo e soprattutto se siete in Italia a donare il sangue ricevete gratis una colazione cioè una brioche e un cappuccino oppure un bicchiere di qualcosa un succo di frutta per esempio che non fa mai male voglio dire no? va bene questo per quanto riguarda la seconda domanda adesso siamo alla terza domanda qual è il vostro rapporto con i medici? ne avete paura? ci andate spesso? prendete facilmente medicinali? ok qua riprendiamo dalla mia infanzia io quando ero bambino ero davvero terrorizzato dai dottori specialmente da un dottore che si divertiva a prendermi in giro e stuzzicarmi con delle frasi del tipo la prossima volta che vieni ti faccio la puntura oppure se non mangi questa cosa qua ti faccio la puntura se non prendi questa pillola ti faccio la puntura eccetera 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 insomma era tutto a base di puntura puntura perché io avevo paura delle punture perché avevo avuto delle brutte esperienze con la gente che non sapeva fare le punture quindi mi faceva un dolore atroce mentre esiste anche un metodo per fare delle punture senza che chi subisca la puntura provi dolore se non lo sapevate adesso lo sapete poi crescendo penso che il mio rapporto con i dottori sia un po' cambiato a casa nostra abbiamo avuto il medico di famiglia che penso sia ormai un amico di famiglia più che un medico di famiglia perché conosce la nostra storia sa le malattie che abbiamo avuto sa quali non abbiamo avuto sa che medicine darci e che medicine non darci insomma è una persona che conosce tutta la famiglia in maniera completa ed esaustiva e che è sempre pronto a dare un consiglio professionale ma anche fraterno in un certo modo poi io personalmente non prendo tanti medicinali anzi tento di evitarli il più possibile però quando è necessario devo ovviamente prenderli anch'io però di solito non prendo tanti medicinali passiamo quindi al quarto esercizio che ci dice in una rivista italiana si è aperto un dibattito sulle medicine alternative alcuni lettori le esaltano altri le criticano severamente scrivete un'email in cui riassumete gli aspetti positivi e negativi di queste terapie in confronto a quelle tradizionali riferendo magari esperienze di familiari o amici questa email deve essere lunga dalle 140 alle 180 parole iniziamo così cara redazione scrivo questa email per comunicarvi la mia esperienza sul versante medicina tradizionale contro medicina alternativa è vero che la medicina alternativa sembra all'apparenza più accessibile o più amichevole più simpatica se vogliamo infatti ho diversi amici e diversi parenti che spesse volte ci sono rivolti a questo tipo di medicina perché venivano trattati in maniera sommaria dal proprio medico curante è anche vero che questo tipo di medicina all'apparenza dà dei risultati più soddisfacenti e anche più rapidi però attenzione non dobbiamo farci abbindolare da questo perché da quel che ho visto sempre con gli stessi amici e con gli stessi parenti i risultati sono provvisori e dopo la quarta assunzione delle cosiddette erbe mediche consigliate dal santone di turno ci ritroviamo a tornare ancora una volta dal nostro medico curante di medicina tradizionale per una cura realmente efficace quello che mi sento di chiedere è una maggiore onestà da parte dei cosiddetti praticanti di medicina alternativa e una maggiore cordialità e una maggiore attenzione da parte dei medici della cosiddetta medicina tradizionale grazie ecco qua così concludiamo questa parte dedicata al parlato e allo scritto adesso la parte F ci chiede di riflettere sulla grammatica ci dice nel testo B perché sembra funzionare abbiamo trovato alla riga 39 si occupò a lungo la cronaca e a quella seguente si propagò la notizia che differenza c'è tra i due si? quante funzioni della particella si conoscete? bene vi dico subito che fra queste due non c'è alcuna differenza poi per quanto riguarda le funzioni della particella si che conosciamo vi rimando se non ve le ricordate a sfogliare di nuovo i volumi precedenti cioè quello per principianti e quello intermedio dello stesso corso di lingua italiana però intanto facciamo un breve elenco abbiamo questo uso del si impersonale poi abbiamo il si passivante e poi ancora una volta abbiamo il si come particella riflessiva della terza persona singolare e plurale e per adesso direi basta così insomma se poi ci vengono in mente degli altri usi possiamo benissimo aggiungerli ed elencarli in seguito parte G lavoriamo sulla lingua nel testo A invece perché funziona abbiamo visto prendere una pomata nelle espressioni che seguono sostituite il verbo prendere con i verbi in blu quindi abbiamo i verbi in blu sono catturare poi temporeggiare assumersi arrestare prelevare e conseguire ok quindi vediamo un attimo catturare sappiamo che è qualcosa del tipo giuazhi lae temporeggiare possiamo intendere questo verbo come zhengqü shizian oppure anche dhengtae shizhi poi abbiamo assumersi che non è altro che danzhen poi abbiamo arrestare che in alcuni contesti è traducibile come tai buo in altri contesti invece è traducibile semplicemente come ting zhe poi andiamo avanti abbiamo ancora prelevare che è semplicemente qü e poi conseguire che è come ottenere quindi huo da ok quindi questi sono i verbi che dobbiamo usare in sostituzione del verbo prendere quindi prendere il ladro ok se sappiamo che il ladro è xiao tou quindi sarà che cosa? arrestare il ladro oppure può anche essere catturare il ladro e possiamo essere un po' più flessibili e possiamo dirle entrambe in realtà poi abbiamo prendere un leone qui invece può essere soltanto catturare catturare un leone poi abbiamo prendere un diploma e cos'è? sarà conseguire un diploma ok poi abbiamo prendersi la responsabilità vedete già qui che è prendersi quindi è riflessivo ci va un altro verbo riflessivo che è assumersi la responsabilità poi abbiamo prendere tempo che è semplicemente temporeggiare qui ovviamente quando uso temporeggiare non c'è bisogno di metterci tempo dopo posso dire semplicemente temporeggiare da solo senza dire temporeggiare tempo no questa forma qua è errata poi prendere i soldi in banca e ovviamente prelevare i soldi in banca oppure prelevare i soldi dall'ATM dallo sportello automatico oppure fare bancomat come diciamo poi girando la pagina ci troviamo davanti a pagina 146 l'esercizio 2 della stessa parte ci dice completate il testo con le parti mancanti scegliendo tra quelle date ok questo testo parla di alcuni miti alcune leggende miti salutisti tutti da sfatare quindi dobbiamo fare attenzione e dobbiamo renderci conto del fatto che tutti questi miti che molte persone continuano a dire e a cui molte persone ancora credono sono in realtà falsi e devono quindi essere sfatati come si dice devono essere smentiti in qualche modo quindi negati anche leggiamo intanto il testo e vediamo un po' cosa manca in questo testo qualcuno ci avrà certamente detto almeno una volta che leggere a luci basse fa male agli occhi eppure non è vero ecco vedete qua già abbiamo un mito che viene sfatato non è vero che leggere con poca luce fa male agli occhi così servono 8 bicchieri d'acqua al giorno per stare bene né che usiamo solo il 10% del nostro cervello quindi due altri miti che devono essere sfatati sono quello che servono 8 bicchieri d'acqua al giorno per stare in salute e che usiamo soltanto il 10% del nostro cervello quindi cosa ci mettiamo alla prima parola mancante che cosa ci mettiamo qui abbiamo una vasta scelta di parole e vediamo subito che il così che è presente nel testo ci suggerisce un'espressione che inizia con come qual è l'unica espressione che inizia con come che abbiamo qui è quella che fa come non è vero che quindi l'espressione è di l'unica che possiamo metterci qua quindi così come non è vero che servono 8 bicchieri d'acqua al giorno per stare bene né eccetera 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 queste teorie sono alcune delle quattro leggende mediche elencate e sfatate dal British Medical Journal quindi queste teorie sono state sfatate in un articolo che è stato pubblicato da questa rivista scientifica allora che cosa ci mettiamo qui elencate e sfatate a me verrebbe in mente di metterci qualcosa del tipo in un articolo pubblicato dal British Medical Journal soltanto che qui non abbiamo in un articolo abbiamo bensì in un documento pubblicato dal British Medical Journal quindi l'opzione I in un documento pubblicato dal British Medical Journal la prestigiosa rivista scientifica come da tradizione durante il periodo natalizio tratta di argomenti più leggeri del solito due ricercatori americani hanno preso tatatata alla medicina e hanno cercato le prove scientifiche della loro validità senza però riuscire a trovarle quindi qui che cosa hanno preso i due ricercatori americani hanno preso delle leggende possiamo dire connesse al mondo della medicina se così possiamo dire quindi l'opzione che va bene qui è l'opzione A quattro luoghi comuni legati alla medicina qui luoghi comuni significa qualcosa che tutte le persone credono essere verità ma invece non è verità quindi questo è il luogo comune ok andiamo avanti ecco le leggende tatatata poi due punti e c'è un elenco di queste quattro leggende ok quindi vediamo un po' ecco le leggende a me verrebbe subito da metterci che sono state sfatate dai ricercatori soltanto che qua non c'è un che ma c'è direttamente un'opzione che inizia con un verbo passivo e qual è? è l'opzione B quindi ecco le leggende sfatate dai ricercatori ok le leggende che i ricercatori hanno smentito qui era l'opzione B vediamo un po' bere otto bicchieri d'acqua al giorno toglie il medico di torno ok intanto vi devo dire che questa frase si rifà a un proverbio antico che dice una mela al giorno toglie il medico di torno cioè che se mangi una mela al giorno sei in salute non hai bisogno di andare dal medico ok significa questa cosa qua non c'è bisogno di bere tanto per mantenersi in salute non tatatata su questo argomento quindi questo argomento non ha delle prove scientifiche quindi vediamo un po' quale potrebbe essere l'opzione giusta penso che sia l'opzione L non esiste una sola prova registrata su questo argomento ok quindi questo argomento non ha prove è soltanto una leggenda una diceria poi due leggere a luci basse rovina la vista secondo la maggioranza degli esperti danni permanenti ma secondo i ricercatori strizzare gli occhi sbattere le palpebre e causare problemi di messa a fuoco ok quindi sembra che leggere a luce bassa non abbia danni permanenti alla nostra vista ok quindi io qua ci metto in ordine le opzioni M ed N quindi secondo la maggioranza degli esperti non dovrebbe causare danni permanenti ma secondo i ricercatori potrebbe comunque far strizzare gli occhi eccetera eccetera quindi sebbene non ci siano danni permanenti è comunque possibile che leggendo a luce bassa strizziamo gli occhi sbattiamo le palpebre e abbiamo problemi di messa a fuoco questo è quello che dice questa ricerca poi la prossima è radersi col rasoio fa crescere i peli più spessi chissà quante volte le ragazze il rasoio la famosa la metta per il terrore di vedere poi crescere la barba sulle gambe oh mamma mia che schifo quindi non è vero che radersi quindi tagliarsi i peli delle gambe col rasoio li fa crescere più spessi e chissà quante volte le ragazze non hanno voluto usare il rasoio quindi qui è l'opzione e si sono rifiutate di usare il rasoio hanno detto no non voglio usare il rasoio andiamo avanti la rasatura invece secondo gli studi dei ricercatori americani sullo spessore e la frequenza della ricrescita quindi non influenza lo spessore e non influenza la frequenza della ricrescita qual è l'opzione fra quelle presenti che è sinonimo di non influenza lo spessore e la frequenza della ricrescita e ovviamente l'opzione F che dice non avrebbe alcun effetto sullo spessore e la frequenza della ricrescita poi l'ultima leggenda metropolitana diciamo leggenda medica è l'essere umano utilizza solo il 10% del proprio cervello questa leggenda medica si è diffusa agli inizi del novecento ma le analisi per immagini ta 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 completamente inattiva e qui io ci metto soltanto secondo me può starci soltanto l'opzione H non mostrano alcuna area del cervello completamente inattiva cioè quando hanno fatto le immagini le scansioni del cervello non hanno visto nessuna parte di questo che fosse completamente inattiva cioè noi chi più chi meno usiamo comunque tutto il nostro cervello e lo usiamo al massimo diciamo del potenziale non è assolutamente vero che ne usiamo soltanto il 10% ok queste erano le quattro leggende da sfatare penso che le abbiamo sfatate adesso siamo delle persone migliori ultimo esercizio per quanto riguarda questa unità è un esercizio di riflessioni linguistiche dice completate il testo con odontoiatra ottico dentista medico ok quindi intanto vediamo un po' l'odontoiatra chi è? è ovviamente il dentista ok poi l'ottico è la persona che vende gli occhiali il dentista di nuovo è il l'odontoiatra sono termini sinonimi e poi medico è soltanto dottore vediamo un po' come possiamo completare questo testo ci dice ecco alcune parole che possono confondere il ta 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 è il medico che cura i denti ok qui che cosa ci mettiamo ci mettiamo ovviamente dentista perché non posso dire il odontoiatra no l'articolo per odontoiatra è l con l'apostrofo quindi qua ci va soltanto il dentista e il medico che cura i denti è quindi specializzato in odontoiatria la cura dei denti perché odonto sta per dente iatria e cura da questo vocabolo greco proviene il più formale titolo professionale e qual è la forma professionale di dentista è ovviamente il suo sinonimo che abbiamo visto prima cioè odontoiatra l'oculista è il che cura gli occhi chi è lo specialista degli occhi è il medico che cura gli occhi questo è il nostro oculista mentre l' chi c'è soltanto una parola rimasta ci da scegliere quindi l'ottico l'ottico è il tecnico oppure chi vende occhiali chi vende lenti a contatto eccetera 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 quindi qua che cosa ci dice ci dice di non fare confusione fra i vari termini perché oculista è una cosa e ottico è un'altra sono due cose diverse dire andare dall'oculista e dire andare dall'ottico perché l'ottico come abbiamo visto è soltanto il tecnico quello che vende gli occhiali vende le lenti a contatto eccetera mentre l'oculista è la persona che ti fa la visita che cura gli occhi al contrario quando sentiamo dentista e odontoiatra dobbiamo fare attenzione perché sono esattamente la stessa cosa soltanto che odontoiatra è un termine più formale più professionale diciamo ok e così finiamo l'unità 26 la prossima volta iniziamo con l'unità 27 che si chiamerà come arricchirsi sul dolore altrui e quindi parleremo di cartomanti di sedicenti maghi e via dicendo ma per adesso non voglio anticiparvi niente perché già per oggi abbiamo fatto tanto come sempre vi do appuntamento alla prossima lezione e vi auguro per adesso buono studio e buon lavoro ciao ciao Grazie a tutti.